Allora ragazzi ditemi da tutto il viso e per me ci vedete? No, dalle nove! Dalle nove! Dalle nove! No, non ci succede, non mi toglie, non è comandata Sì, non mi sente la sovrita all'inizio, è un po' di copertura la sua voce semplice il tempo spesso è molto semplice, spesso è molto più disponibile, insomma la sua voce è stupenda. Grazie a tutti! Grazie che siete venuti oggi qua, io lo filmerò tutti, vi voglio conoscere tutti, voglio abbracciare tutti, voglio baciare tutti. Grazie per il sostegno che non avete dato in questo intercorso e grazie perché continuate a farlo. Oggi è una bella giornata perché sono seconda in classifico. Questo è grazie a voi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!